Buonasera a tutti, ben ritrovati alla seconda edizione di Calabria News 24 in forma, i titoli del nostro telegiornale. Dopo il freccio argento si punta all'ammodernamento della strada statale 106 Ionica. Diminuiti del 50% i furti in appartamento a Cosenza, lo comunica il questore Petrocca. Gli 80 OS che rischiano il licenziamento dopo Cosenza protestano anche a Catanzaro. Il sindaco di San Pietro in Amantea dice no alla discarica. Dopo il nuovo freccio argento che da Sibari a partire dal 16 settembre arriva a Bolzano, si punta ad un altro importante obiettivo, ovvero quello di riammodernare la strada statale 106 Ionica, arteria fondamentale per tutto il territorio. La partenza del nuovo freccio argento che collega Sibari con Bolzano è stata accolta con grande entusiasmo dai cittadini della fascia ionica calabrese. Grazie al nuovo servizio messo a disposizione da Trenitalia e finanziato dalla Regione Calabria, i viaggiatori del torale ionico, al momento quello cosentino, possono raggiungere ora Roma in poco più di 4 ore e Bolzano in 9, senza considerare le fermate intermedie. Ma quando si parla di infrastrutture da quelle parti non si può non fare riferimento alla strada statale 106 Ionica? Il nome usato per definirla Superstrada della Morte ne indica la pericolosità e testimonianza ne sono i tanti incidenti che praticamente in maniera quotidiana la interessano, a volte con risvolti tragici. Da più parti si chiede infatti un ammodernamento, a partire dal rifacimento del megalotto 8 Sibari-Mandatoriccio, che possa garantire un'infrastruttura a quattro corsie, come accada a Mandatoriccio in direzione nord, e anche il tratto che interessa il crotonese. Interventi su cui si sta lavorando, e proprio a tale scopo, negli ultimi giorni si è riunita l'Assemblea dei Sindaci per discutere della fattibilità dei progetti e valutare un piano di investimenti. Della questione si è interessata anche la senatrice del Movimento 5 Stelle, Rosa Silvana Bate, che nei mesi scorsi aveva incontrato a Roma i vertici di Anas. L'auspicio è la necessità e che il tutto possa concretizzarsi in tempi rapidi. Nell'ambito della conferenza stampa convocata dal questore di Cosenza Giovanna Petrocca è emerso che i furti in appartamento e in città sono diminuiti del 50%. Nella città di Cosenza questi stati furti in appartamento si sono dimezzati del 50% rispetto allo scorso anno. Un dato più che positivo, come ha confermato il questore di Cosenza Giovanna Petrocca in occasione della conferenza stampa sul bilancio della campagna Il Blu nell'estate. Questi sono quei risultati che fanno piacere alla gente, che lascia a casa per andare in ferie e poi magari quando torna trova la casa a suo quadro e non è una cosa piacevole. Mentre con l'apertura delle scuole continuerà ad essere alta la soglia di sensibilizzazione da parte della Polizia nei confronti degli studenti a partire dai progetti indicati dal Ministero. Una iniziativa essenziale che, oltre allo scopo informativo, ha soprattutto quello educativo alla legalità. I progetti finalizzati alla legalità, noi facciamo di solito varie riunioni con i ragazzi per quanto riguarda poi, non lo so, discorsi sulla cultura mafiosa, sul problema della criminalità organizzata e chiaramente a livello teorico. E poi però ci sono i progetti finalizzati alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti nelle scuole che è quello più importante. Dopo Cosenza, gli 80 operatori sociosanitari protestano anche di fronte alla cittadella regionale per scongiurare il licenziamento. Prosegue la protesta degli 80 operatori sociosanitari dell'ospedale civile dell'annunziata di Cosenza che avevano occupato nei giorni scorsi la direzione generale dell'azienda ospedaliera in seguito al loro licenziamento collettivo, protesta che si è trasferita davanti alla sede della Regione Calabria dove rivendicano l'internalizzazione dei servizi che finora hanno svolto per l'azienda cosentina come è venuta tra l'altro per i loro colleghi crotonesi. Nel corso del sit-in hanno reclamato anche l'intervento delle istituzioni e del commissario di governo Cotticelli. A loro fianco Angelo Sposato e Santo Biondo della CGL della Guille i quali hanno sollecitato un incontro con il ministro Speranza affinché allo stesso tempo venga convocato un tavolo con il commissario Cotticelli per affrontare tutte le problematiche in modo da provvedere per esempio a formalizzare le loro assunzioni per internalizzare questi lavoratori, un precariato che ha bisogno di avere risposto. Cambiamo argomento, il sindaco di Morano Calabro chiarisce ai nostri microfoni i termini relativi alla questione ecodistretto, tutto sembra essere confermato. Sembra sia tutto definitivo, l'ecodistretto si farà a Morano Calabro. Le domande sono tante a partire da che cos'è, a cosa serve, quali siano i rischi per la salute e l'eventuale impatto ambientale, ma soprattutto come mai cittadini non siano stati avvisati in anticipo di una decisione così importante. Il sindaco Nicolò De Bartolo ha spiegato le motivazioni della candidatura ad ospitare l'ecodistretto della differenziata annunciando ai nostri microfoni che si confronterà con la cittadinanza durante un comizio e presenterà il progetto nel corso di un incontro nei prossimi giorni. Nel frattempo il Comitato in Difesa del Territorio del Pollino ha organizzato per domenica un'assemblea popolare proprio a Morano, invitando il sindaco a ritirare la proposta oppure a dimettersi. Non scaricheranno o non porteranno i rifiuti differenziati di tutta la provincia di Cosenza, quindi come si dice di 159 comuni, ma sappiamo che dal piano di gestione dei rifiuti regionali l'atto Cosenza prevede due ecodistretti, di cui uno impiantato di già a Rossano e l'altro che sorgerà qui nel nostro territorio di Morano, oltre la presenza di un'impiantistica privata che è quella della Calabria Maceri. E mentre si cercano possibili soluzioni per ovviare l'emergenza rifiuti che ha coinvolto l'intera regione, aumentano le proteste di chi non intende ospitare discariche o altro nei propri comuni. I riflettori si sono accesi in questi ultimi giorni su San Pietro in Amantea, nell'intervista ai chiarimenti del sindaco del comune, Cosentino. Si susseguono le polemiche intorno alla possibile realizzazione di impianti di discarica in alcuni comuni e all'emergenza rifiuti si aggiunge la protesta delle comunità preoccupati della sostenibilità ambientale dei propri luoghi. Nei giorni scorsi il presidente del lato rifiuti Cosenza, Marcello Manna, ha incontrato i primi cittadini della provincia. Un'assemblea a cui hanno partecipato 56 dei comuni convolti, nel corso della quale è stato proposto un possibile piano di interventi nella gestione dei rifiuti nel Cosentino. E se il sindaco di Morano Calabro, Nicolò De Bartolo, si è reso disponibile alla creazione di un ecodistretto per la raccolta e trattamento della spazzatura dei 150 comuni, non ha trovato invece, conferma alcuna, neanche da fonti ufficiali, la realizzazione di una discarica nel comune di San Pietro in Amantea. E il sindaco del borgo Cosentino, Giacchino Lorelli, ha inteso smentire categoricamente la notizia apparsa su alcuni organi di stampa, offrendo i chiarimenti del caso. Sindaco, partiamo dal principio. Quando inizia questa storia? Questa storia inizia circa nel 2011, con il federalismo demaniale, quando noi abbiamo acquisito quest'area a costo zero, e da lì è iniziato poi un percorso ad arrivare fino ad oggi. Un percorso che ha portato al completamento e all'iter di tutta questa storia, cioè oggi qui noi dovremmo assorgere una centrale di compostaggio progettata dai tecnici del Centro Nazionale Ricerche, in collaborazione con la Regione Calabria. E anche per oggi è tutto, io vi aspetto domani sempre qui sul canale 90 del Digitale Terrestre. Come di consueto vi ricordo di consultare il nostro sito www.calabrianews24.com Grazie e buona serata.